Più di 6.600 ucraini sono stati evacuati ieri dalle principali città del paese attraverso otto corridoi umanitari, lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La situazione umanitaria è catastrofica, secondo le parole di testimoni sul campo. Queste immagini, filmate dalla televisione di Stato russa nelle periferie di Mariupol, mostrano una vita quotidiana diventata sempre più difficile, che rappresenta ormai la realtà di zone sempre più estese nel paese. Nella notte le sirene d'allarme e antiaeree si sono attivate in quasi tutte le regioni, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. A Kharkiv, dove sono almeno 500 le vittime dall'inizio della guerra, si rimuovono ancora i detriti dopo la distruzione di questo edificio. Anche la capitale Kyiv continua a combattere, implementando i checkpoints e le posizioni difensive. Secondo le stime delle autorità, almeno la metà degli abitanti della città sono fuggiti. Le vittime sono almeno 228, di cui 60 civili. Tra i morti si contano anche 4 bambini. I feriti sono invece 912. Alla luce della situazione umanitaria, Zelensky ha chiesto nuovamente negoziati di pace alla Russia. Negoziare non è semplice, né piacevole, ma è necessario. L'Ucraina ha sempre spinto per una risoluzione pacifica del conflitto, ma ora ne abbiamo ancora più bisogno. Perché stiamo contando ogni vittima e perché per noi ogni famiglia spezzata, ogni casa distrutta, è importante. Ora Mosca sembra volere sferrare l'attacco sui punti più nevralgici e in particolare sulla zona meridionale dell'Ucraina. La città di Odessa, a sbocco strategico sul Mar Nero, si prepara all'offensiva russa.